Siamo in diretta? Siamo in diretta? Spero di sì. Ok, vedo le prime persone che iniziano a collegarsi. Venerdì 5 giugno 2020, pomeriggio, quindi dai, inizia il weekend, immagino ci sarà meno gente del solito online, me lo auguro se non altro. Buongiorno a tutti da Matteo Gracis, io sono un giornalista indipendente e un pensatore libero e spesso confuso. Non ho soluzioni, non ho risposte, ho sempre molti dubbi e perplessità che condivido qui con voi. E come dico sempre nei miei video, nel frattempo vi saluto tutti, ciao Teresa, ciao Francesca, ciao Silvano, ciao Michele, buongiorno. Questo video, quando verrà terminato, verrà poi pubblicato anche sul mio canale YouTube. Lì, sul mio canale YouTube, sotto al video, nella descrizione, ci saranno tutti i link alle notizie che io racconterò, che io leggerò insieme a voi oggi, durante questo video, in maniera tale che chiunque possa poi andare a verificare, ad approfondire, eccetera, eccetera. Ecco, lo dico sempre perché poi me lo chiedete. Altre premesse fondamentali no, penso di aver già detto tutto e possiamo partire, possiamo partire. Mi sono reso conto che erano già quasi due settimane che non facevo un video in diretta sul coronavirus. Ho detto, oi boh, no, non si può, nel senso, bisogna rimanere sul pezzo, altrimenti no. In realtà, come ho già detto più volte, da qui in poi spererei di parlarne sempre meno di questo simpaticissimo Covid-19. Chiaro che nel momento che escono notizie e che mi arrivano segnalazioni di un certo tipo, che vengo a conoscenza di determinate cose, non posso, non posso evitare di fare questi video. Anche perché poi, come ho già detto più volte, questi video sono il mio psicologo personale. Per me, io mi sfogo attraverso questi video, quindi al posto di andare a dare dei soldini a uno psicologo, lo faccio insieme a voi, insieme a voi. Condivido le mie perplessità. Allora, partiamo subito coi fuochi d'artificio. Vi devo far vedere delle cose che stanno arrivando perché sono stupende, sono eccezionali. Attenzione, eh, attenzione. Dal TG.com, direttamente ai professionisti dell'informazione. Coronavirus, ecco la tuta anticontaggio per chi non vuole rinunciare alla vita notturna. Devo fare vedere le foto perché è qualcosa di spettacolare. Signori, sono arrivate le tute integrali. Eh? Cosa mi dite? Beh, niente mai, i colori, eh, lo stile. Beh, fai un figurino, eh. Se arrivi con questa in discoteca. Fai un figurino. C'è, c'è tutto, c'è tutto. E allora, guardate che con questo potete attivare il telefono, c'è il microfono, c'è tutto quanto. Tutta anticontaggio per chi non vuole rinunciare alla vita notturna. Cioè, se proprio non riuscite a rinunciare alla Movida, ma contemporaneamente volete essere sicuri, ecco, c'è stata questa trovata di questa azienda, no? Che ha progettato una cosa simile, anche in vista di future pandemie, chiaramente, perché siamo solo all'inizio. Quindi ecco, ve la segnalo perché fateci un pensierino. Tra l'altro, vabbè, si chiama Micrashell, questa splendida tuta. Tra l'altro, attenzione, perché si può anche far sesso con la mascherina. Cioè, secondo i progettisti ci serve addirittura la possibilità di fare sesso senza togliersi la tuta. Una bomba, una bomba, ok? Un'altra cosa che devo assolutamente segnalarvi è questa, perché vi ricordate, vi ricordate, io rido, però non c'è niente da ridere. Rido perché bisogna un po' sdrammatizzare. Allora, vi ricordate che in uno degli scorsi video vi avevo fatto vedere che in Cina avevano trovato questa incredibile soluzione per il distanziamento tra i bambini di trasformarli in aeroplanini, no? Gli avevano messo delle cose in testa e li avevano trasformati in degli aeroplani. Attenzione, mi è arrivata questa segnalazione. Ve lo devo dire, non è una cosa fatta per il Covid-19, nel senso che è un casco, è il casco di Toy Story 3, se non sbaglio, che però in questo momento può tornare utile. E quindi ve lo segnalo perché se effettivamente volete star tranquilli e mandare i vostri bimbi a scuola nella massima sicurezza, secondo me questo è un prodottino che bisogna tenere sott'occhio. Costa 500 dollari, però li vale tutti. Cioè, secondo me li vale tutti. Quindi ecco, ve lo volevo segnalare, lo trovate online, casco è tutta Toy Story 3, 500 dollari, non fa una piega, bellissimo, bellissimo. No, perché in tutto questo poi, in tutto questo, voi lo so cosa state pensando, non dovete prendermi a me per matto, perché io vi faccio vedere delle cose, non sono io che le faccio queste cose qua. Per me i matti sono quelli che le prendono seriamente in considerazione. Per me sono quelli i matti, quindi non ditemelo a me, io ve le faccio vedere. Cerco di mettervi di fronte all'evidenza delle follie alle quali stiamo assistendo, inermi, senza reagire. Questo fa parte del lavaggio del cervello collettivo, a cui stiamo andando incontro da due o tre mesi. Io sono anche stufo di discutere con delle persone che ogni tanto, vedo che non facevano po' sul coro, poi improvvisamente, puff, saltano fuori. Ho provato anche gli scorsi giorni qualche commento, poi mi rispondono con certe cose, lascio stare, non rispondo più perché non ho voglia, non posso riassumergli tre mesi di notizie, di cose. Vi faccio vedere le assurdità che ci sono, poi decidete voi. Questa cosa del caschetto, queste cose delle tute, che magari uno può scherzare, dire, ma dai, cosa vuoi che... Eh sì, signori, però se io tre mesi fa vi avessi detto che ci avrebbero controllato con i droni, voi oggi, voi ai tempi, mi avreste preso per pazzo. Oggi è la realtà, così come la app Immuni, ah, piccolissima parentesi sull'app Immuni, ho già detto un mese fa, ma lo ribadisco, che per me, secondo il mio modestissimo parere, sarà un fallimento totale, totale. Però, insomma, hanno annunciato in pompa magna che già mezzo milione di italiani l'hanno scaricata nel primo giorno. Lo ribadisco, ne riparliamo fra sei mesi. Per me, l'app Immune sarà un fallimento totale. Spero di sbagliarmi, ne parleremo fra sei mesi. Dicevo, queste cose non è che siano delle cose tanto campate in aria, perché voglio farvi vedere cosa sta già succedendo attualmente. Vi voglio far vedere questo video del TGR Lombardia, che ci porta l'esempio di come si è già attrezzato un asilo di peschiera Borromeo, provincia vicino a Milano. Per permettere ai bimbi di giocare, a peschiera Borromeo, nel milanese. Nel milanese, per permettere ai bimbi di giocare. Attenzione. Entrano dal testo cancello. Attenzione. In un stop, in una postazione, si lavano le mani. Ci si lava le mani. Ci sono due postazioni dove i genitori cambieranno il loro bambino. controllo della temperatura per tutti i genitori e i figli e poi c'è il passaggio. Si passa il bambino. Si passano i bambini. Nella sua zona. Attenzione. Attenzione. Asilo già adibito a peschiera Borromeo. Occhio. I box. 12 bambini tra i 18 mesi e i 6 anni mangeranno, riposeranno e giocheranno in spazi separati. Mangeranno, giocheranno e riposeranno in spazi separati. Hanno diviso 18 box. Senza toccarsi. Senza toccarsi. Questo giardino in 12 zone. 12 zone. Così potrà controllare. Diciamo, questo sarà il suo tavolo di appoggio. Abbiamo pensato che almeno in una prima fase della sperimentazione di fare, diciamo, delle regole sanitarie e le chiamerei esagerate. Abbiamo pensato, almeno nella prima fase della sperimentazione, di fare delle regole sanitarie esagerate. Cioè, ce lo dice anche la preside o chi gestisce questo asilo. Io per primo indosso la mascherina e la vivo in un modo simpatico. Ecco, la mascherina, la maestra che dice io per prima indosso la mascherina e la vivo in modo simpatico. No, non devo dirlo. Volevo dire una parolaccia. Non la dico. Me la tengo per adesso. Questa è l'obotomizzazione. Ok? Ve lo possono dire gli esperti che invece va bene così. Fate quello che volete. Ascoltate chi vi pare. Questa cosa qua è follia pura. È il fallimento dell'umanità. Spazi divisi per bambini che giocano da soli, che mangiano da soli, che dormono da soli. per che cosa che il coronavirus in tutto questo non ha fatto un morto tra i bambini o se ne ha fatto uno purtroppo non fa statistica o comunque non possiamo parlare di numeri tra i bambini perché potrebbero essere dei tramiti contagio. Ma allora no. Allora, io sto cercando di trovare un senso a tutto questo perché se effettivamente mi dite dobbiamo fare questa cosa di tenere i bambini separati la mascherina eccetera eccetera i caschi le tute gli scaffandri la app i droni e via dicendo perché c'è un motivo reale. Io sono il primo ad alzare le mani e dico va bene ragazzi è arrivato un virus che ci fa fuori tutti è inutile continuare a far finta di andare avanti come al solito. ma non è così ma non è così io non le trovo queste informazioni e si sta andando in quella direzione perché notizia ansa del 5 giugno ok quindi notizia ansa di oggi di questa mattina 9.41 a settembre si ritorna in presenza ipotesi divisori tra i banchi le regole per tornare a scuola ve le faccio vedere le regole per tornare a scuola igiene organizzazione obblighi mascherine tra gli obblighi c'è distanza di un metro due in palestra a casa se hai una temperatura di 37 gradi e mezzo va bene no assembramento mascherine obbligatorie tranne che per interrogazione attività fisica consumo pasti e bambini sotto i sei anni quindi secondo il ministro dell'istruzione Lucia Zolina secondo il nostro premier da settembre a quanto pare si tornerà a scuola e tutti i bambini dall'elementare in su avranno l'obbligo di mettersi la mascherina e anche qua io dico mi può star bene mi può star bene ma dovete darmi delle motivazioni perché in base a cosa decidete queste cose che influiscono in maniera pesantissima sulle nostre vite sulle vite dei nostri figli ma avete una minima idea di che cosa può casare a livello psicologico tutta questa roba nei bambini perché qua nessuno si sta creando questo problema probabilmente li affronteremo fra dieci anni fra quindici anni ma questa cosa qua è la distorsione totale della realtà stiamo creando una generazione a cui che gli stiamo insegnando che bisogna vivere dentro a delle bolle di cristallo cioè iniziavamo dopo decine di anni a parlare dell'importanza di uscire dalla propria comfort zone iniziava a essere un concetto diffuso condiviso su cui si stava iniziando a discutere seriamente adesso si torna indietro di non so di quanto tempo cioè stiamo spiegando ai bambini che bisogna andare e non ci si può né più toccare né ridere né scherzare insieme non si può avvicinare perché cosa perché cosa perché se ci si io è da tre mesi che faccio queste domande porca di quella miseria e non c'è nessuno che mi risponde non c'è nessuno che risponde a queste cose su che cosa avete basato il lockdown i decreti le quarantene su che cos'è che li avete basati ah perché esce questa notizia nel frattempo di un giornale che è il guardian il guardian che è uno dei giornali più rispettabili che ci abbiamo a livello internazionale eccolo qua la versione originale no che mette in discussione dati alla mano attraverso un'investigazione attraverso un'analisi di un certo peso in un articolo uscito il 3 giugno mette in discussione che l'OMS l'organizzazione mondiale della sanità e i governi avrebbero basato le proprie politiche su dati taroccati ma come su dati taroccati ma come fatemi capire eh sì l'organizzazione mondiale della sanità i vari governi nazionali hanno modificato le loro politiche di risposta al govi-19 le terapie sulla base di dati imperfetti provenienti da una semi-sconosciuta azienda statunetense che si occupa di analisi sanitaria lo scrive il Guardian in un'inchiesta esclusiva che punta i riflettori su Surgisfer Surgisfer un'azienda USA nel cui sta figurando uno scrittore di fantascienza e una modella di riviste per adulti signori no ma guardate che qua non c'è mica niente da ridere questa Surgisfer ha fornito i dati necessari alla compilazione di diversi studi sul covid-19 pubblicati anche sull'ANSE del New England Journal of Medicine che fino ad ora non ha fornito spiegazioni sui dati o sulla metodologia applicata cioè ma ci rendiamo conto no forse non ci rendiamo conto cioè secondo un'investigazione un'indagine del Guardian i governi e l'organizzazione mondiale della sanità hanno basato le proprie politiche su dati taroccati vi sembra tutto normale ve lo faccio rivedere l'articolo del The Guardian The Guardian eccolo qua tradotto in italiano i governi e l'OMS hanno cambiato la politica di covid sulla base di dati sospetti di una piccola società statunitense all'interno c'è uno scrittore di fantascienza e una modella di film pornografici sono in dubbio i più grandi giornali scientifici del mondo il The Lancel il The New England Journal of Medicine hanno aperto delle inchieste interne per capire cioè vi lascerò i link così ognuno di voi potrà potrà andare a verificare perché è giusto che ognuno di voi vada a verificare non fidatevi di me non fidatevi di quello che vi sto dicendo lo dico sempre andate a verificare smettetela di accendere la televisione prendere per oro colato quello che vi dicono smettetela perché siete responsabili quanto loro del disastro a cui stiamo assistendo cazzo ci avete dei figli ho discusso negli ultimi giorni con dei genitori che non si pongono minimamente il problema e mi rispondono ma se in televisione ci hanno detto che a settembre bisogna andare i bambini bisogna andarli con la mascherina in classe li manderemo con la mascherina sti cazzi non funziona così siete dei genitori di merda siete dei genitori di merda dovete informarvi per i vostri figli per il loro futuro dov'è finito questo virus dov'è finito dovevano esserci le ricadute doveva esserci l'apoteosi in sud Italia quando ormai due mesi fa vi ricordate quei treni che ci hanno mostrato partire da Milano e andare verso il sud ci hanno detto scoppierà il caos non è successo niente poi c'è stata adesso da due settimane la riapertura la fase 2 doveva esserci le ricordate le immagini della movida a Torino sui navigli con tutti quanti che gridavano l'irresponsabilità dei cittadini compreso quel gran giornalista che è Scanzi che ormai a lui interessano i numeri i click si fa le seghe online dicendo sono il numero 1 il numero 2 ho fatto più view di questo più view di quell'altro Scanzi ma non eri quello che osannavi in direzione ostinata e contraria di De Andree è tutta la vita che ti occupi di De Andree e della sua direzione ostinata e contraria e poi cosa fai nel giro di due mesi fai un bel giro tondo e passi a parlare di criminali nei confronti dei cittadini che non si mettono una mascherina per andare fuori a correre ma veramente Scanzi che delusione che delusione tu e le tue dirette da un milione di telespettatori secondo me sono quei numeri là che ti hanno un po' dato la testa o probabilmente il fatto di dover comunque far parte di un sistema mainstream ti hanno fatto anche a te allineare un po' dove sono queste ricadute dove è finito questo virus il virus dal punto di vista clinico non esiste più e ce lo dice Zangrillo il dottor Zangrillo va bene qualcuno mi dice è il medico di Berlusconi e allora ma chi se ne frega e allora anzi vedendo Berlusconi che insomma a 80 anni suonati sembra a volte quando se ne esce sembra un un pischello cioè è un dato positivo in più il fatto che questo sia il dottore di Berlusconi se permettete Zangrillo il virus dal punto di vista clinico non esiste più tra le altre cose il signor Zangrillo è il primario del San Raffaele di Milano non è proprio l'ultimo arrivato e riporta il fatto che non è l'unico a dire che il virus dal punto di vista clinico non esiste più l'avrete sentito in televisione è uscito per 48 ore e poi è scomparso perché funziona così provano quando qualcuno esce con queste affermazioni così forti lo buttano nella massa perché chiaramente provano a vedere se c'è qualcuno che riesce a distruggerlo dal punto di vista comunicativo degli argomenti eccetera nel momento in cui non viene distrutto perché nessuno è riuscito a contestare questa cosa al signor Zangrillo viene rimesso da parte allora facciamo finta che non abbia detto niente è successo anche con altri virologi in questi due tre mesi mentre chi continua a sostenere la linea del governo viene tenuto su nell'esposizione mediatica è il gioco chiaramente che abbiamo in Italia nei mass media eccetera Zangrillo ci dice il virus dal punto di vista clinico non esiste più è l'unico a dirlo non è l'unico a dirlo perché Zangrillo ce l'ha detto una settimana e mezza fa circa dal 31 maggio questa notizia è uscito nel frattempo un altro approfondimento è uscita è uscita un'altra notizia del 3 giugno un lancio dell'ADN Kronos vi lascio tutti i link così poi andate a cercarvi tutto Luciano Gattinoni Luciano Gattinoni professore merito dell'università di Göttingen in Germania e dell'università statale di Milano uno dei più grandi esperti in anestesia e reanimazione ok quindi non è visto che bisogna prendere perché se lo dicesse Matteo Gracis sarei d'accordo con te se con voi non varrebbe nulla ma io vi faccio vedere invece delle cose che riportano delle dichiarazioni dei medici dei virologi dei professori universitari così siamo tutti contenti no? sono fonti ufficiali e cos'è che dice lui? il covid sta passando da solo sta facendo tutto la natura come è avvenuto per la spagnola e per la SARS e anche i pazienti sono guariti da soli cazzo ma ragazzi ma ragazzi ma dove sono ste notizie? ma perché non le riportano? vi faccio ragionare su una cosa il covid sta passando da solo sta facendo tutto la natura no? questa roba qua è iniziata febbraio marzo però c'è stato detto che era già in giro da prima da novembre dicembre poi adesso sta passando da solo non si capisce dove si è andato a finire questo covid forse con il caldo la primavera e l'estate se lo stanno portando via ma no non c'è non vi fa venire in mente qualcosa e a me fa venire in mente l'influenza stagionale e sì perché è l'influenza stagionale che lavora più o meno allo stesso modo no? l'inverno il sistema immunitario scende e ci becchiamo l'influenza stagionale e poi di solito con la primavera col sole col caldo col mare se ne va via è difficilissimo beccarsi un'influenza stagionale ad agosto è molto più probabile beccarsela a gennaio a dicembre a febbraio no? e allora anche qui no guai maledetto non non osare a paragonare il covid con l'influenza sono due cose diverse ah sì? e dove sta scritto? e chi l'ha detto? e in base a cosa? e in base a chi? a quale dichiarazione? siete sicuri? siete andati a verificare? o avete preso quello che vi ha detto mamma rai mamma media sette la repubblica al corriere della sera? perché magari hanno fatto un titolo che ho scritto la coronavirus non è come l'influenza stagionale e lo riportate io mi sono rotto le palle di discutere con voi se permettete se permettete se volete espormi i vostri dubbi che sono contrari magari i miei benvenga però dovete smetterla di riportarmi tra le vostre fonti i giornali nazionali che distorgono tutto che strumentalizzano che manipolano fotografie video notizie e ve l'abbiamo già fatto vedere miliardi di volte che è così e voi continuate a credergli basta l'influenza non è come il coronavirus fatemelo vedere spiegatemelo no perché vi faccio vedere io una cosa e io le fonti che vi faccio vedere sono quelle che voi credete siano istituzionali ufficiali quindi indiscutibili guardiamo che cosa dice sull'influenza l'epicentro che è il sito dell'istituto superiore di sanità sacro un ente sacro intoccabile e vi voglio leggere questa cosa riguardo l'influenza riguardo l'influenza nel mondo globalmente ve lo leggo io globalmente ogni anno il virus influenzale colpisce tra il 5 e il 15% della popolazione adulta vale a dire da 350 milioni a un miliardo di persone un'incidenza che sale al 20-30% 30% nei bambini tra i 3-5 milioni di casi di influenza riportati annualmente evolvono in complicanze che causano il decesso in circa il 10% dei casi vale a dire da 250 mila a 500 mila persone soprattutto tra i gruppi di popolazione a rischio e dopo vediamo questo cioè ogni anno l'influenza stagionale a detta dell'istituto superiore di sanità causa dai 250 ai 500 mila morti non lo dice Matteo Gracis lo dice l'istituto superiore di sanità citando all'inizio come è giusto che sia l'organizzazione mondiale della sanità la sacra OMS quanti morti hai detto Matteo 250 500 500 mila persone ogni anno quanti morti avrà fatto il coronavirus ipoteticamente ipoteticamente ad oggi ne ha fatti 391 686 forse 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 non si sa non si sa perché una notizia che ho già fatto vedere e che nessuno ha ripreso è questa è questa riportata da due miseri quotidiani locali il primo morto di coronavirus non sarebbe morto di coronavirus secondo l'autopsia il signor Adriano Trevisan di Voe Euganeo che è morto a 78 anni secondo l'autopsia non è morto di coronavirus quindi questi morti che ci dite che sono qui sarebbe da fare un po' di ricerche bisognerebbe fare un po' di autopsie si sarebbe dovuto farne magari per sapere e questa cosa qua non c'è solo in Italia c'è anche nel resto del mondo vi segnalo un'interessante intervista fatta a un dottore del Minnesota a tale me lo son segnato eccolo qua dottor Jensen del Minnesota che lo vedete in cui non può essere fatto una diagnosi definita di covid-19 ma nei quali la stessa è sospetta o plausibile è accettabile trascrivere sul certificato di morte covid-19 come causa probabile o presunta quindi dottore qual è il problema al riguardo? beh in breve è ridicolo ho speso un po' di tempo prima a guardare la guida ve la lascio ve la linkerò se volete andarvela a cercare subito si intitola così c'è una manipolazione dei dati sui decessi da coronavirus la denuncia del dottor Jensen questo video ormai è del 22 aprile ma è molto valido perché ho verificato e il dottor Jensen effettivamente ha detto determinate cose potete andarlo a verificare anche voi in prima persona e allora perché non si può sostenere che il coronavirus possa essere paragonato a un'influenza stagionale perché alla prova dei numeri è una cosa molto simile all'influenza stagionale a meno che voi non abbiate altri numeri magari avete altri numeri magari mi fate vedere che l'influenza fa 50 morti l'anno mentre il coronavirus ha fatto 5 milioni di morti l'anno allora è un'altra cosa allora sono d'accordo con tutti quelli che dicono è giusto tutto questo è giusto un'altra cosa che vi faccio notare riguardo l'influenza che potrebbe avere anche un'altra un'altra similitudine gli effetti del virus influenzale non sono uguali nel mondo nei paesi industrializzati l'influenza si rivela fatale soprattutto tra le persone di età superiore a 65 anni 65 anni a che età si muore di coronavirus? ah io ho letto che in Portogallo è morto un bambino di 4 anni nel mio paese conosco uno che è morto che aveva 35 anni quindi muoiono tutti no signori perché la statistica non si fa così con tutto il rispetto per il bambino in Portogallo il vostro conoscente di 35 anni la statistica si fa sui numeri complessivi ok e sempre dall'istituto superiore di sanità sono questi i numeri complessivi le caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia dal covid-19 guardate un po' l'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS è 80 anni l'età media 80 anni 80 anni l'influenza stagionale uccide di più dai 65 anni in su certo qualcuno potrà dire come a volte succede è però senza lockdown chissà a che numeri ora potremmo a che numeri potremmo assistere sarebbe andato molto peggio e dove sta scritto dove sta scritto perché nel video precedente invece vi ho fatto vedere qualcosa che riguardava la vitamina D che c'è data dal sole e che fa tanto bene a chi a chi rischia di prendersi il covid e noi proprio nel momento dell'emergenza siamo stati chiusi in casa ci hanno detto di non uscire di prendere il meno sole possibile è un complotto no io non credo nel complotto lo dico una volta per tutte io non credo nel complotto credo nel caos credo che i nostri governi si siano trovati nel caos totale e non abbiano avuto le palle le competenze per affrontare un'emergenza di questo tipo che era un'emergenza sanitaria era un'emergenza sanitaria dovuta ai tagli nei posti letto in 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 terapia intensiva ok ma che poteva essere tranquillamente gestita in maniera diversa e probabilmente adesso potrebbe essere gestita in maniera diversa e da qui a settembre ci stanno dicendo adesso con tutte le loro forze che questo virus tornerà in autunno come l'influenza stagionale ah ho capito però non bisogna dire che è come l'influenza guai a dire che è come l'influenza e perché tante domande a cui non trovo risposta continuo a fare questi video e continuo a non ricevere risposte credibili c'erano un paio c'avevo un paio di haters che però sono spariti in questi mesi non li vedo più non ho cancellato nessuno non ho bannato nessuno eppure questi qua sono spariti come neve al sole sono spariti come il coronavirus che non si vede più che non si vede più ragazzi spero di avervi dato anche oggi qualche input perché è questo che a me interessa a me interessa continuare a gettare semi per far crescere per coltivare pensiero critico perché questo è importante dobbiamo cercare di mantenere un po' di lucidità dobbiamo continuare a farci delle domande a porci dei dubbi questo secondo me è fondamentale in questo momento sempre di più perché se continuiamo a fidarci e ad affidarci a questo branco di cialtroni non ne andremo fuori sarà sempre peggio sarà sempre peggio abbiamo barattato le nostre libertà fondamentali in cambio di fittizia sicurezza è ora di finirla è da un po' che ve lo dico dai possiamo farcela vi voglio bene vi abbraccio senza mascherina vi abbraccio proprio così veramente ok e vi auguro le meglio cose se vi piace se vi è piaciuto questo video volete far arrivare queste notizie queste informazioni ad altre persone condividetelo fatelo girare perché è chiaro che insomma a quanto pare il nostro governo la nostra società non vuole avere molte voci critiche non vuole avere domande scomode no non vuole avere così questioni irrisolte responsabilità vuole andare avanti tranquillo per la propria strada tutti quanti a testa bassa e zitti e mutti ecco infatti la paura non a caso genera proprio questo l'infondere paura è molto più facile si sa da tempo che è molto più facile governare un popolo con la paura rispetto ad uno coraggioso torniamo ad essere coraggiosi impavidi ciao a tutti grazie per avermi sopportato e per il vostro continuo supporto un abbraccio da Matteo